Benvenuti all'interno del Museo Ducati. Questo è il posto migliore per parlare di storia. Per Gerald Charles, che rappresenta la legacy del grande maestro Gerald Genta, questo è un grande onore. Trovo che sia bello essere qua e vedere la grande storia di Ducati e parlare di dove sono le sinergie e il fil rouge con questa edizione magnifica che abbiamo fatto con Gerald Charles e voi. Questa è la stanza del 916, quindi la troviamo al centro. Lei troneggia perché rappresenta il DNA della marca. Noi sappiamo che la difficoltà più grande è creare qualcosa di esteticamente bello ma rifinito in ogni dettaglio e tecnicamente performante. Tamburini porta i design in ogni componente, quindi non solo le superfici di carrozzeria ma anche tutti i componenti meccanici, lo scarico, la forcella, forcellone morobraccio, altri componenti della meccanica e la testa di sterzo sono tutte state disegnate amorevolmente. E allo stesso modo è l'orologio Gerald Charles. Notiamo degli elementi simili tra l'orologio e la moto. Non è solamente una complicazione orologiera ma è una complicazione meccanica perché è una miniaturizzazione di quello che può essere un motore di una macchina o un motore di una moto. Così anche Gerald Charles rappresenta un'eccellenza svizzera nella costruzione di segnatempo artigianali ma che hanno il massimo della performance e il massimo del design.